Manca poco e poi finalmente tornerà alla luce uno dei centri sportivi più importanti della città di Montesilvano. È davvero il caso di dirlo, finalmente ci siamo. 20 giorni restituiamo alla città un centro riqualificato, un centro potenziato da un punto di vista sportivo, un centro per il quale ci siamo presi qualche tempo in più, perché al di là del programma che era stato già in qualche modo fissato, abbiamo ragionato una serie di migliorie, una serie di interventi che renderanno questo centro ancora più, come dicevo prima, ancora più attrattivo. È un centro ereditato dal dottor Trisi e merita non soltanto per la sua vocazione, ma anche per ringraziare chi ha voluto devolvere un centro così importante alla città e ha avuto quello che meritava. Alcune modifiche apportate in corso d'opera permetteranno al centro di essere più funzionale. Sono stati realizzati quattro campi in terra abbattuta e questo è stato fondamentale per la candidatura della stessa Montesilvano ad ospitare campionati ATP e ATF, mentre con un finanziamento appena ricevuto di 750 mila euro sarà realizzato un campo centrale sempre in terra abbattuta corredato di tribune. Sul Campo 3 invece prenderà vita una sorta di palazzetto in vista dei campionati europei di futsal per non udenti di scena nel prossimo mese di ottobre. Dunque un passo fondamentale verso una destagionalizzazione delle attività in città. Stiamo cercando di destagionalizzare l'offerta turistica anche mediante la proposta di eventi sportivi e quest'anno ne avremo tantissimi a partire già ad aprile fino alla fine di ottobre. Quindi stiamo lavorando in quest'ottica e questo centro nuovo e rinnovato ci darà sicuramente una grossa mano in tal senso.